Seconda parte del video con i miei consigli di lettura, eccolo qui, Giordano Bruno Guerri, rapporto al Duce, ne parlo spesso, ne parlo molto 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 spesso, i verbali delle udienze che Mussolini tenne a Palazzo Venezia con tutti e 96 i federali del PNF. Mussolini chiede un rapporto sulla situazione del partito, sulla situazione del lavoro, sulla situazione dell'economia, ma tra gli slogan, la retorica e i giri di parole, credetemi, ne emerge il quadro di un regime che è in avanzato stato di decomposizione. Contiene anche importanti passi dei diari di alcuni gerarchi fascisti, ricostruisce i documenti danneggiati e credetemi, è un libro estremamente importante, poco conosciuto, ma estremamente importante secondo me, proprio per capire che cos'era realmente il regime fascista e cosa era la società italiana dopo vent'anni di regime fascista. Rapporto al Duce di Giordano Bruno Guerri, anche questo libro importante, anche questo libro assolutamente da leggere. Poi ci sono due libri di Romano Canosa. La voce del Duce, ovvero sia la storia dell'agenzia Stefani, l'agenzia giornalistica che fungeva da megafono del regime nel mondo che raccoglieva le notizie e le pubblicava in Italia, l'agenzia giornalistica che fungeva anche come servizio di informazioni per il Duce. E poi i servizi segreti del Duce, sempre di Romano Canosa, la storia degli uomini che facevano le spie per il nostro regime. Due libri interessanti, due libri che ci consentono sempre di capire che cosa fu il regime fascista e i suoi meccanismi. Consigli di lettura sempre, sempre, sempre sul fascismo, per la precisione su Mussolini. Richard J. B. Bosworth, Mussolini, un dittatore italiano. Una delle biografie migliori mai scritte sul Duce. Indubbiamente Bosworth è australiano, ama profondamente il nostro paese, è un grande conoscitore della nostra storia e ha scritto, spiega, esamina, Bosworth esamina Mussolini non tanto nelle vesti del grande uomo che si illudeva di essere, quanto piuttosto come espressione della società di questo paese. E' probabilmente una delle migliori biografie mai scritte sul Duce. Come sempre il consiglio è leggetela, perché come sempre leggere fa male solo alla vostra ignoranza. Mi ripeto, sì, mi ripeto, ma è un concetto che va ripetuto per forza. Ok, sempre un altro libro di Andrea Sant'Angelo. Eccentrici in guerra, storie e personaggi stravaganti della Seconda Guerra Mondiale. Dal tedesco che girava col kilt al celebre Mad Jack Churchill che sbarcava con in mano una spada e con un arco e freccia tracolla, passando per Patton, per altri personaggi che sono veramente spettacolari. Leggetevi il capitolo dedicato a Ord Wingate, il liberatore dell'Etiopia, l'uomo che fece la spedizione dei Cindit in Birmania e mettetevi le mani nei capelli per quanto era fuori di testa quell'uomo. Veramente. Eccentrici in guerra di Andrea Sant'Angelo. Anche questo sicuramente un argomento più leggero, ma sicuramente un argomento altrettanto interessante, quindi trovatelo e non ve ne pentirete. Sempre per i fissati degli ACDC, un libro scritto da Irene Thornton, nota per essere stata la prima moglie, la moglie poi divorziata, di Ronald Belfort Scott, meglio noto come Bon, il primo e mai troppo compianto cantante degli ACDC. Un toccante omaggio da parte della donna che lo ha amato, che si è sposata con lui e che lo ha amato, Bon Scott, La mia vita con il cantante degli ACDC. un libro commovente, un libro meraviglioso che racconta la storia di quello che fu veramente l'ultimo grande rocker della storia della musica. Legge, anche se non siete fan degli ACDC, leggetelo, capirete tante cose, anche di me magari. Va bene. Giovanni Cecini ha scritto anche un altro libro, sempre molto importante, che cito spesso nei miei video, perché è una miniera di informazioni, a dir poco, incredibili, anche perché si tratta di una delle pochissime opere, l'unica pubblicata su questo argomento negli ultimi trent'anni almeno, i generali di Mussolini, le brevi biografie degli uomini che condussero la macchina bellica italiana, degli uomini che sono tra i principali responsabili delle nostre sanguinose disfatte durante la Seconda Guerra Mondiale. Le strategie, le battaglie, le storie degli uomini che erano alla testa dell'esercito del Duce. Libro assolutamente, ripeto, da avere che vi farà capire tante cose. Consiglio di lettura, perché veramente leggetelo, gente, leggetelo, vi aiuterà molto, credetemi, vi aiuterà moltissimo. Ecco, David M. Glantz ha scritto anche questo libro sull'assedio di Leningrado. Un assedio lunghissimo, durissimo, un assedio in cui sono morte di fame 900.000 persone, un assedio che è proseguito per più di due anni, un assedio che ha letteralmente segnato, che ha segnato durissimamente, in maniera durissima, Leningrado, quella che ora si chiama San Pietroburgo. Le storie, le vicende, l'eroismo, il coraggio, le miserie, la fame nera degli abitanti di Leningrado durante l'assedio. Opera, anche questa, di David M. Glantz, probabilmente il miglior storico vivente a proposito delle vicende dell'Unione Sovietica durante la Grande Guerra Patriottica. Altro libro molto, 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 molto importante e che consiglio caldamente di leggere Le ali del potere, la propaganda aeronautica durante il regime fascista. Praticamente, come dire, il ruolo dell'aviazione nella propaganda del fascismo, la penetrazione della propaganda e del fascismo nell'aeronautica italiana, nel mondo aeronautico italiano, l'uso dell'aviazione, l'uso dell'aeronautica come arma di propaganda. Propaganda alla quale però finimmo per credere. Un libro di Eric Lehmann. Magari la lettura non è propriamente molto agile, ma vale la pena di leggerlo perché veramente chiarisce tanti aspetti poco conosciuti del mondo aeronautico italiano nel ventennio, ok? E naturalmente anche dell'Italia tutta. Un altro libro, e ringrazio Sandro Colombo per avermelo regalato, magari un pochino datato, però per certi versi non risente molto dell'età. Thomas Powers, La storia segreta dell'atomica nazista, ovvero sia come i tedeschi non, e ripeto e sottolineo, non arrivarono alla bomba atomica alla faccia di Romersa e dei romersioti. Ma vabbè, non mi fate essere cattivo, non mi fate essere polemico. Ok. Testo importantissimo, questo di Ian Kershaw, Hitler e l'enigma del consenso. Un libro molto importante di cui parlo molto, molto spesso, sia nei miei video che nelle mie live, perché è assolutamente indispensabile, secondo me, per capire i meccanismi del consenso che permisero a Hitler di giungere al potere, che permisero a Hitler di mantenere il potere e di soggiogare, ipnotizzare e asservire l'anima di un intero popolo, l'anima del popolo tedesco. Hitler e l'enigma del consenso di Ian Kershaw. Ian Kershaw, che scrive anche questa monumentale biografia del Führer, questa però purtroppo è la versione ridotta, quella in volume singolo. Ce n'è un'altra, costosissima, che è sicuramente più completa, ha circa 350 pagine in più, se ne ricordo male, ma anche questa versione in un volume singolo con 350 pagine in meno risulta molto probabilmente la migliore biografia del Führer mai scritta, superiore persino a quelle di Bullock e di Fest, che rimangono libri validissimi, ma che sono superati per chiarezza e completezza da questa di Ian Kershaw. Sempre per capire le origini della Seconda Guerra Mondiale c'è questo libro di Alan John Percival Taylor, che fu uno dei più grandi storici inglesi dell'età contemporanea, in cui mette a nudo le responsabilità delle potenze occidentali nello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. e credetemi che non, insomma, come ho spiegato prima a proposito dell'accordo di Tim Bouveri, c'è di che mettersi veramente le mani nei capelli per la cecità con cui le democrazie occidentali si gettarono praticamente in bocca a Hitler. Allora, allora, altro libro molto importante, sempre di Ian Kershaw, La fine del Terzo Reich, Germania, 1944-1945. Come la Germania arrivò al collasso nell'ultimo anno di guerra, il crollo, la fine, la sconfitta, la disfatta tedesca nell'ultimo anno di guerra. Un libro che, oserei dire, è un piccolo capolavoro di esposizione e di chiarezza, perché Kershaw molto probabilmente è uno dei migliori storici mondiali, probabilmente. Ecco qua. Un libro che avete imparato a conoscere quest'anno, un altro dei miei ultimi, uno dei miei ultimi acquisti librari, l'esercito dell'imperatore di Jean-Louis Margolin, i crimini di guerra commessi dai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Roba per stomaci forti, signori, roba per stomaci forti. anche questo qui per conoscere un argomento decisamente poco conosciuto e sul quale qua in Italia purtroppo si trova poco perché si trova tanta roba in inglese sui crimini di guerra giapponesi, ma in italiano si trova abbastanza poco e questo libro è probabilmente uno dei migliori disponibili nella nostra lingua. quindi che ve lo dico a fa che ve lo dovete leggere? Ok, va bene. Altro libro molto molto importante è La storia del fascismo di Pierre Milsat e Serge Berstein, due studiosi francesi che analizzano il legame profondo tra il fascismo e l'italianità. Un libro in cui i due studiosi francesi, i due grandissimi studiosi francesi, anche loro, grandi amanti dell'Italia, ricordiamocelo, amano l'Italia e ne narrano la storia, un libro in cui si parla di come il fascismo nacque, di come il fascismo crebbe, di come il fascismo si appropriò dell'Italia e di come si sfasciò malamente alla dura prova dei fatti, sbattendo il muso contro la guerra. Ecco qua. Insomma, cari signori, ah, dimenticavo, un libro bello, 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 veramente bello, un capolavoro della letteratura moderna, L'amico ritrovato di Fred Hullman, un libro intenso, struggente, commovente sull'amicizia tra due ragazzi, un ebreo e un nobile tra virgolette ariano durante la seconda guerra mondiale. Leggetelo. e se non vi commuovete vi commuovo io, il cervello, ammazzate. Ecco, insomma, scusate. Ah, poi dimenticavo un'altra cosa. Sono qui, li ho lasciati qua, li ho lasciati qua, li ho lasciati qua. Un testo fondamentale della mia biblioteca, non posso non parlarvene, non posso non consigliarvelo come la strada della vittoria di Richard Overy, come gli alleati hanno vinto la guerra. Logistica, industria, dottrine militari, intelligence, come gli alleati hanno sconfitto la Germania. un'esemplare ricostruzione dell'ultimo conflitto mondiale. Ok, un lavoro sicuramente fondamentale. La strada della vittoria di Richard Overy. E per favore, non mi menate il torrone con la storia che c'è la bandiera francese in copertina. È la copertina, il contenuto è tutt'altro, fidatevi. Ecco. E poi chiudiamo con una biografia eccezionale. Bruce Dickinson. A cosa serve questo pulsante? La storia del cantante degli Iron Maiden, la sua vita, i concerti, gli eccessi, la sua passione per il volo, la lotta contro il tumore e la sua vittoria contro il tumore. Un grandissimo cantante, forse il più grande cantante heavy metal di tutti i tempi, un personaggio intelligente, un personaggio carismatico e dannatamente, dannatamente affascinante. Anche se non siete metallari, anche se non amate gli Iron Maiden, anche se non sapete chi sono gli Iron Maiden, Bruce Dickinson. A cosa serve questo pulsante? Attenzione, può contenere heavy metal in volo. Insomma, signori, questi, in questo video diviso in due parti, sono i consigli di lettura dello zio Mike. Quindi, se avete voglia di spendere un po' di soldi, se avete voglia di farvi una cultura, se avete voglia di combattere la vostra, ma anche l'altrui ignoranza, non dovete fare altro che conferarvi, se non tutti, qualcuno di questi libri. Quindi, cari signori, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi spero che questi libri vi piacciono, spero che questi libri vi siano utili e veramente un grazie di tutto cuore e arrivederci al mio prossimo video, arrivederci, penso proprio, nel 2022. Ciao!